L'Inter ha le mie spalle che si allena, Mourinho dirige l'allenamento, unico dubbio è Sneijder, ma oggi in conferenza stampa Mourinho ha riservato l'ultima parte molto pepata alla Juventus, state a sentire. Io dico veramente, mi piacerebbe tanto, fra due settimane più o meno, giocare il Juventus-Inter a Turino, io voglio giocare a Turino, però ci sono le regole e chissà la partita non è a Turino. Riferimento chiaro ai cori odiosi della curva juventina contro Balotelli e ad una possibile squalifica dell'Olimpico di Turino. La palla passa ai giudici della Lega e agli opinionisti, meglio tornare a Barcellona-Inter che da parte nero-azzurra registra l'unico dubbio Sneijder, da quanto si è visto in allenamento dovrebbe esserci. Attenzione, Kivu, che dovrebbe essere il marcatore di Messi o Henry o Iniesta, secondo di chi scenderà in campo, ha sentito dolore nel corso dell'allenamento. Però, assicurano dal Dipartimento Medico, dovrebbe farcela. Murigno descrive così l'importantissimo confronto. Il dottore del Barcellona è un mago, è un mago. Pruna conosco dai miei tempi di qua e è un mago. Secondo me saranno tutti disponibili per giocare. Sei d'accordo che l'Inter è molto più gruppo rispetto alle altre centri o sei passato? L'Inter gioca meglio quest'anno che giocava l'anno scorso. Questo mi sembra ovvio. Ha più sicurezza in se stesso, ha più sicurezza nel suo modo di giocare. Se siamo bravi il sufficiente per avere successo in Champions, avere successo in una partita come questa di domani, aspettiamo e vedremo. Però la mia sensazione come allenatore è che la mia squadra quest'anno gioca l'American. Grazie.